Video serio, lo sapete qual è il mio più grosso a rimpianto in tutta la mia vita? E non aver detto ciao e non aver salutato e detto ti voglio bene a mio padre per l'ultima volta. E non l'ho fatto non perché sono cattivo, non li volessi bene, non l'ho fatto semplicemente, semplicemente per una cosa, per un motivo. Pensavo di dirglielo la sera. E invece non c'è stato tempo. Perché vi dico questo? Perché vorrei che voi non faceste il mio stesso errore. Non pensate che ci sia tempo. Io pensate, l'ho detto la mattina, vabbè, vado al lavoro, tanto ci sarà tempo questa sera per dirgli ti voglio bene o eventualmente, visto che sapevo la situazione, per salutarlo. E invece non c'è stato tempo. Quindi, qualunque sia il vostro rapporto con i vostri genitori, avete solo un padre e solo una madre. Diteglielo che ti voglio bene. Non fate il mio stesso sbaglio. Che poi questo rimpianto, se non vi perdonerete mai, rimarrà sempre con voi tutte le cazzo di notti. Ciao, belli.